Oggi parliamo di una piccola novità che riguarda l'app, un nuovo premio riscattabile con i crediti referral, molto molto interessante, i numeri di Tesla in Europa da inizio anno fino ad ora, quindi fino a fine luglio, e foto molto interessanti del Cybertruck. A tra poco! Bentornati a Lampi di Tesla. Tesla si aggiorna sempre, lo sappiamo, si aggiornano i software delle macchine, ma si aggiornano anche i software dell'app. In particolare una piccolissima novità, ma secondo me molto comoda e interessante. Infatti adesso se andate nella vostra app, in alto a destra, è apparso una nuova icona, quella della chat. Se ci cliccate e andate nella vecchia inbox che era nella sezione account, ecco io credo che sia molto comoda in caso di chat con il service. Tra l'altro una funzionalità che in Europa non è stata introdotta da molto tempo. Io quando ero negli Stati Uniti già la usavo prima che arrivassi in Europa ed effettivamente la trovo molto molto comoda perché intanto rimane tutto scritto di ogni intervento al service che fate. Tutte le comunicazioni rimangono scritte e quindi sono facilmente reperibili e chiare. E poi comunque in questo modo avete subito la notifica nella schermata principale se ricevete qualche messaggio del service. Un piccolo miglioramento secondo me per quanto riguarda i premi che si possono riscattare con i crediti referral. Effettivamente non c'è tanta varietà se andiamo a vedere tutto lo shop Tesla però non ci lamentiamo. Però secondo me Tesla ha inserito un premio molto molto interessante e apprezzato perché è possibile con 2500 crediti andare ad acquistare un anno di premium connectivity che costa 9 euro e 99 al mese quindi il valore reale sono 120 euro non male. E ora parliamo di numeri in Europa ringraziando come sempre Roland alias Piloli su Twitter seguitelo perché fa dei grafici veramente veramente interessantissimi. Tra l'altro gli ho chiesto se ha voglia di fare una puntata intervista e adesso era in ferie comunque ci stiamo lavorando. Beh guardiamo il grafico sono i numeri di Tesla in Europa da gennaio fino a luglio quindi fino al 31 luglio. I colori riguardano i mesi e ovviamente l'ultima barra in basso è quella del 2023. Come potete vedere il 2023 ha già più che raddoppiato le vendite del 2022. E secondo me la cosa molto molto interessante è che possiamo chiaramente vedere la differenza dei colori del primo mese di ogni trimestre quindi il verde che praticamente negli altri anni è nullo e qui invece già a gennaio sono cominciate le consegne poi il blu che come abbiamo visto per il verde era praticamente nullo negli altri anni e poi ancora l'azzurro. Ecco questo sta a significare che grazie sia a Berlino che a una nuova organizzazione di Shanghai Tesla sta uscendo dalle ondate trimestrali e comunque siamo già oltre 200.000 auto consegnate in Europa fino a luglio quindi significa che per fine anno arriveremo circa 400.000 in Europa orientativamente 6-700.000 negli Stati Uniti. Beh la Cina ovviamente la fa da padrona comunque anche l'Europa ha la sua bella fetta di mercato. E poi non possiamo non parlare di Cybertruck ormai l'evento di consegna si avvicina chissà se sarà a settembre oppure se passerà nel Q4. Secondo me non è così lontano perché ormai di foto di Cybertruck prodotti se ne vedono veramente tante. Questa in particolare è il Cybertruck e ora vi faccio vedere la particolarità in ricarica al supercharger che c'è fuori dalla fabbrica di Austin. Lo vediamo di fianco a due Model 3 in particolare c'è chi ha fatto proprio con Photoshop il paragone vedete una Model 3 con il franc aperto quello del Cybertruck dovrebbe essere più del doppio beh comunque ovviamente è più grande però da qui si vede che non è così tanto più grande di Model 3 almeno non sembra effettivamente è quasi un metro più lungo di Model 3 se le misure rimangono quelle proposte inizialmente tutto da vedere comunque è una bella bestia. La cosa interessante è che questo esemplare all'interno andando a zoomare ha le plastiche sui sedili quindi come fosse effettivamente un esemplare prodotto per essere venduto al pubblico quindi all'acquirente e anche tutti degli sticker intorno che riportano probabilmente i barcode dei vari pezzi delle varie parti codici quindi potrebbe effettivamente essere una prima versione di Cybertruck consegnabile ai clienti in particolare poi oggi sono uscite altre foto all'interno della fabbrica di almeno cinque Cybertruck finiti con il franc aperto quindi prodotti quindi la produzione ormai è cominciata e ora veniamo ai saluti e ringraziamenti Andrea che ha ritirato la sua Model Y bianca vabbè però ha interi bianchi e ha anche usato il nostro referral quindi lo salutiamo complimenti e buon divertimento con la tua nuova Model Y un ringraziamento a Danilo che ha voluto supportare il canale grazie mille e mi ha scritto grazie di tutto e delle tue preziosi informazioni avanti così lampi forever ciao Fabri ciao Danilo grazie davvero tanto per il tuo supporto poi un saluto a Maria che oggi ha ordinato la sua Model 3 nuova utilizzando il referral dei lampi che trovate in descrizione noi sceglietene uno dei tre se volete e quindi sia beccata 500 euro di sconto sulla sua nuova auto quando la ritirerà aspettiamo la foto ovviamente e poi un grandissimo saluto a Vincenzo perché ha ordinato una delle magliette edizione limitata di lampi di tesla in tour la trovate in descrizione allo shop di lampi di tesla ringraziando sempre salvo per la sua disponibilità e vi ricordo che in descrizione trovate anche il video del tour che comincerà il 27 agosto dove andremo a toccare praticamente tutta l'italia in cinque giorni quindi andate a vedere il video e trovate anche il canale telegram dedicato per rimanere sempre aggiornati mi raccomando questa è un'edizione limitata che rimane solo alla fine del tour già vale tantissimo perché edizione limitata già ha un valore inestimabile quindi non fatevela scappare questo è tutto per oggi vi ringrazio come sempre e ci vediamo alla prossima ciao